Arrivano da tutta Italia, dall'Europa ma anche dal resto del mondo con richieste di prenotazione dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Argentina, dal Brasile, sino al Sudafrica, Taiwan, Cina ed Australia. Cresce infatti il turismo ad Arezzo segnando un più 25% e aumentano anche le richieste dei tour operator per venire alla giostra del Saracino. È un evento che porta turismo, il turismo sta crescendo a doppia cifra in terra di Arezzo rispetto agli scorsi anni, quindi grazie anche a questa sequela di eventi, fra cui il Saracino è una delle punte sicuramente di diamante, la nostra città si fa conoscere, va fuori i confini d'Italia, porta attenzione, porta turismo, rilancia un'economia che ha bisogno anche di eventi come questo per l'indotto che può portare. Un successo reso possibile anche dalla collaborazione attiva da anni con la Camera di Commercio. Attraverso dei contributi importanti che ci ha dato sia per sostenere direttamente la manifestazione, sia nel corso degli anni per sostenere l'intervento al Museo della Giostra. La Camera di Commercio crede profondamente nel rilancio turistico della città anche attraverso la nostra più importante manifestazione che è appunto la giostra del Saracino. Noi crediamo che iniziative come ovviamente quella che non è un evento qualsiasi ma che ovviamente è legata alla storia e alle tradizioni della città come appunto la giostra del Saracino siano quelle che vadano maggiormente supportate e che siano davvero delle testimonianze da poter portare davvero nel mondo in modo che davvero possano essere apprezzate attraverso una presenza che come dicevo è confermata dai dati che sono assolutamente positivi e assolutamente soddisfacenti.